Fino al 15 di luglio il Museo Diocesano di Pesaro in Via Rossini ospita la mostra Il Segno di Cristo, la vita e la passione nelle incisioni di antichi maestri da Dürer a Rembrandt. Un percorso espositivo di 30 opere che arrivano al Museo pesarese grazie al generoso contributo di collezionisti privati che hanno aderito a questa iniziativa mettendo a disposizione del pubblico pesarese i preziosi fogli. 30 incisioni di maestri antichi si va dal 400 al 600 con nomi quali Albert Dürer, Andrea Mantegna, Rembrandt e tanti altri. Un percorso, una narrazione attraverso queste opere che segue un po' la vita di Cristo quindi iniziando dall'annuncio e dall'infanzia fino ad arrivare al momento centrale della passione, la morte e la resurrezione. È una mostra che abbiamo organizzato in collaborazione con Luigi Benelli che è uno dei prestatori di queste opere insieme ad altri e abbiamo pensato una sorta di percorso che non sia solamente tecnico ma anche un supporto dal punto di vista delle fonti testuali quindi con le indicazioni e la narrazione dei Vangeli che accompagnano appunto le opere esposte nella nostra mostra. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 con aperture mattutine nella terza domenica del mese. Un percorso consultabile anche nei pomeriggi festivi del 25 aprile e primo maggio. Visite pomeridiane che fra giugno e luglio saranno ampliate dal giovedì fino alla domenica. La mostra si intitola il segno di Cristo che è un gioco di parole fra appunto il segno grafico che è il segno gestuale che l'incisore realizza appunto sulla matrice sulla lastra di rame o di legno perché appunto parliamo di multipli derivati da una matrice e il segno di Cristo che è appunto il tema iconografico della mostra un percorso che si snoda in due secoli e che va a toccare i più grandi artisti della storia dell'incisione ma anche della storia dell'arte perché pensiamo a nomi come Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Rembrandt, Carracci e quindi si snoda in questo percorso fino ad arrivare al tema della resurrezione che è un po' l'emblema finale di questa tematica. Il nucleo di opere proviene da collezionisti privati che hanno messo a disposizione appunto le loro incisioni ma sono opere che essendo multipli possiamo trovare anche nei più importanti musei e nei gabinetti delle stampe di tutta Italia e di tutta Europa.